semplicemente nella nostra quotidianità oppure dormendo. Guarda, vediamo proprio le nostre modelle una accanto all'altra, no? Da una parte quindi vuole andare proprio a migliorare, a tonificare tutta la parte dell'addome, del ventre, gli addominali, i glutei, le cosce, per cui va in palestra teoricamente, senza dirlo all'insegnante, insomma un allenamento abbastanza consistente e addirittura io non sento la fatica, ma la produzione di acido lattico verrà ridotto del 30%, quindi io vado a risparmiare tempo anche su tutta la fase del defaticamento. In più, a forza di indossare questo ciclista, la mia pelle va a migliorare nel profondo, c'è un aumento della produzione del collagene, che è molto spesso per l'urzare, ma soprattutto più tonica e compatta, è come se fosse rimpolpata. 101645 è il codice prodotto per poterlo acquistare per un prezzo davvero molto piccolo, come 36,90 euro. In fondo io vi sfido neanche un trattamento a raggi infrarossi lontani fareste e vi sentirete ancora più lisci. Sì che i vostri fidanzatini, i vostri maritini, come dici tu, le pelle davvero lisce in quel caso. Insomma, sai, c'è la pelle del gluteo che tende ad avere peli incarniti, invece il fatto che noi andiamo a muovere la sintesi del collagene, va ad allisciare la pelle al punto che il pelo andrà, uscirà, scusatemi se ne parlo così, veramente in massa la nostra Luisa, appunto lo indossa come una guaina se vogliamo, perché comunque un certo fitting, un certo contenimento, un minimo, quel mezzo centimetro comunque lo ho visto un po' difficile, perché è un bianco e nero, soprattutto bianco qua, quindi c'è una dilatazione del ventre, della nostra. Il seno sul retro, quindi per essere più veloci, pratiche e tutto quanto, possono utilizzare questo tipo di reggiseno. Lo possiamo usare per andare in palestra, perché è molto comodo, è un reggiseno che per le attività è l'ideale, ok? Quindi quando siamo anche molto di fretta, lo allacciamo e slacciamo in maniera molto veloce ed efficace e soprattutto si può allacciare facilmente. E vediamo, di fatti adesso, proprio l'allaccio e soprattutto la vestibilità, quindi vuol dire, Anna, che va bene davvero per tutte le morfologie. Esatto, per tutte le taglie, per tutti i seni possibili. Cosa significa? Che la disponibilità delle taglie è dalla 75 alla 95 nella coppa B, C, D e anche la E. Quindi per i 60, dopodiché si fa asciugare e può essere tranquillamente riutilizzato. Si asciuga molto velocemente, proprio perché l'elassane è un tessuto che si asciuga in maniera veloce e rapida. Ok, quindi anche facile, diciamo, da manutenere nelle nostre case. E vediamo come sostiene bene anche il seno di Gioia, che è un seno prosperoso. Esatto, un po' più grande rispetto a quello di Mileto, ad un vestito magari un po' scollato, che ha una spallina larga, perché no, oppure a manica lunga, visto che ora fa. Soprattutto comodo. E guardiamo il bianco adesso su Milena, che ha cambiato il carne con quello bianco. Vediamo che abbiamo tutte quante le taglie limitate, amici, di ogni singolo colore. L'allacciatura è anteriore, possiamo servire tutte le taglie, i colori sono bianco, carne e rosa e ne abbiamo solo 16 pezzi di tutti i colori. Il prezzo è davvero contenuto per questo best seller che ogni volta vi presentiamo, va letteralmente a ruba. Soltanto 19,99 euro, un piccolo investimento per avere un reggiseno di grandissima qualità che può servire tutte le coppe, fino alla coppa E, quindi tutti i tipi di seno, grande sostegno e soprattutto eleganza, femminilità, morbidezza, quello che le donne cercano in un reggiseno di elevata qualità e con un prezzo però appunto contenuto. Non dobbiamo più spendere più di 40 euro. Vediamo anche il beige e vediamo anche il rosa. Soltanto 16 pezzi a colore, 19,99 euro, semplice. Finto nel senso che invece è una stampa molto morbida che ci segue in tutte le forme del corpo con questa righina che delinea anche visivamente, quindi limita il campo visivo di una semilena. Grazie della tua dimostrazione. Ci piacerebbe adesso far tornare la nostra Antonietta, che è la nostra Milena. Eccolo, ecco la rouge in piena regola con Milena. Bellissima. Guarda, con la spallina regolabile, abbiamo l'effetto del seno con il ferretto che non c'è ma è come se ci fosse che prende il seno dal lato e lo posiziona. Possiamo regolarli a seconda della nostra altezza. A seconda della nostra altezza, certo. E dietro abbiamo l'effetto push up. eccolo qua, con il solito, il solito diciamo, perché per me ormai è un... ...perché Noblesse vuole esaltare la femminilità, non sopprimerla in qualche modo. Grazie Milena. Adesso rimaniamo in attesa di Antonietta.